Il riascio di tutti gli ostaggi di fregiani, dateti e terroristi del movimento islamico palestino e dalato lo che è il suo di noi che è il suo di un'altra persona della stessa la ministra del supermonte con la terrenota del mondo è il suo sereo da un'indagine a Gadan, tra i conti di appoggiare il curano di un'attività che gli provenirebbe da un'attività, una di battata da un anno della guerra e ha provocato una morte di 40 mila persone, altri quadri circa di un'attività di parte quando riguarda la città, la stazione del conflitto è unica l'ordine per vedere qual è tutta la missione dell'ordine